Musica Fratelli, sorelle e amici in Cristo, buongiorno. Oggi, con l'aiuto di Dio, faremo la quarta puntata della serie che abbiamo iniziato sul libro della Genesi. E oggi, in modo particolare, parleremo dell'importanza del libro della Genesi e faremo anche un'introduzione a questo libro. E prima di iniziare, vi invito a pregare con me. Padre, ti ringraziamo per questo momento che ci dai. Grazie per il tuo Spirito Santo, di cui ci riempirai per poter essere ancora più innamorati di te, per amarti ancora di più. Nel nome del tuo Spirito Gesù. Amen. Quindi, come abbiamo detto, oggi, in modo particolare, daremo l'importanza di questo libro. E se ci ricordiamo, nell'ultima puntata abbiamo parlato dell'attacco che c'è stato, che c'è, sul libro della Genesi. Perché sono quelli che dicono che i libri e le storie raccontate nel libro della Genesi sono miti, leggende, sono metafore. Però abbiamo visto che non è proprio così. Abbiamo visto che Gesù Cristo è stato, è esistuto veramente. Che Gesù Cristo è esistito nel tempo di Tibero Cesare. Che Gesù Cristo è esistito nel tempo di Pilato, di Erode. Quando Pilato era governatore della Giudea. Quindi, vediamo che se neghiamo l'esistenza di Adamo ed Eva, neghiamo l'esistenza di Gesù Cristo che è esistito veramente. Perché in Luca 4 è scritto che Gesù Cristo è della genealogia di Adamo. Se neghiamo Gesù Cristo, neghiamo Abramo, neghiamo Davide, che sono i loro padri, nella carne. E neghiamo anche Adamo, che è suo padre nella carne. Quindi, vediamo, abbiamo visto che anche i discepoli attestano l'esistenza di Adamo, di Abramo, di Giacobbe, di Noè. E oggi parleremo, come abbiamo detto, faremo l'introduzione e parliamo dell'importanza di questo libro. Di solito le persone non studiano il libro della Genesi, prima di studiare altri libri. E vanno nel libro, vanno nella Bibbia, e a un certo momento devono sempre tornare indietro. Perché? Perché non possiamo capire il corso di una storia, oppure la fine di una storia, senza aver capito l'inizio della storia. E cosa significa Genesi? Genesi significa inizio, origine. Quindi il libro della Genesi è il libro delle origini. E vediamo che il libro della Genesi spiega l'origine del cosmo, l'origine delle piante, degli animali, l'origine dell'uomo, della donna, l'origine del peccato, l'origine della morte, l'origine della redenzione, l'origine delle nazioni, l'origine delle lingue, l'origine di Israele, l'origine degli arabi, l'origine degli africani, l'origine di altre nazioni. Quindi vedremo che la Genesi, a differenza degli insegnamenti, della teoria dell'evoluzione, presenta una breve cronologia del pianeta Terra. descrive i primi 2500 anni della storia del nostro pianeta. Quindi uno studio dei suoi contenuti rivela che è stato scritto da Mosè circa 1500 anni prima. È importantissimo il libro della Genesi. E possiamo vedere che, fratelli e sorelle, noteremo una cosa importantissima che avevamo visto nell'ultima puntata, che c'è stato un attacco frontale contro il libro della Genesi. E questo attacco fa sì che, se qualcuno non crede nel libro della Genesi, non potrà credere neanche in tutto il resto della Bibbia. Perché se dico che Adamo e Eva non sono esistiti veramente, che sono solo metafore, oppure mite o leggende, allora sono in pericolo. Allora mi potrò anche fare la domanda, perché leggere il resto della Bibbia? Gesù non avrà senso, quando invece vediamo che Gesù è la discendenza di Adamo. La discendenza di Adamo e Eva. Quindi miti o realtà, come abbiamo visto l'ultima volta, oggi vediamo che la creazione, come potete vedere allo schermo, vediamo che, noteremo che tutti i libri della Genesi, oppure tutte le storie della Genesi, del libro della Genesi, 50 capitoli della Genesi, sono citati nel Nuovo Testamento. Quindi è impossibile per noi capire il Nuovo Testamento o se non abbiamo capito il libro della Genesi, oppure capito l'Antico o il Primo Testamento. E vedremo che ogni, tante storie dell'Antico Testamento sono citate nel libro del Nuovo Testamento. Leggiamo, possiamo vedere degli esempi, come potete vedere allo schermo. La creazione è citata in Matteo 19, da 4 a 6, ebrei 1, Giovanni 1 a 3, il sabato è citato in Marco 2, versetto 27, Adamo è citato in Luca 3, 38, Romani 5, 12 a 21, e così via, Eva, si parla di Eva in 1 Timoteo 2, versetto 13 e 14, e 2 Corinti 11, versetto 3, la genealogia di Gesù in Luca 3 e della Genesi capitolo 5. Si parla ancora del diluvio di Noè, in Matteo 24, come potete vedere allo schermo, anche in Pietro, nell'esbio di Ebrei, anche di Caino e Abele, in Matteo 23, 35, in Ebrei 11, Enoch è parlato in Giuda, 14 a 15, Ebrei 11, versetto 5. Le nazioni adattori di Babele sono citate negli Atti dell'Apostolo, capitolo 2, versetto 8 a 11, Abramo è citato in Giovanni 8, versetto 50 a 59, Matteo 8, da 11 a 12, Romani 4, versetto 1 a 3, Giacomo 2. Quindi vediamo queste storie, fratelli e sorelle, le sono citate. Sara, si parla di Sara, in Ebrei 11, di Lot, di Sodoma, di Gomorra, in Luca 17, in Seconda Pietro, di Isacco, di Ismaele, di Giacobbe, di Esau, i 12 figli di Giacobbe, di Giuseppe, di Agar, tutti sono citati nel libro del Nuovo Testamento. Quanto è bello! Vediamo che, in realtà il Nuovo Testamento, è l'Antico Testamento rivelato, e l'Antico Testamento è il Nuovo Testamento velato. L'Antico Testamento è il Nuovo Testamento velato, e il Nuovo Testamento è l'Antico Testamento svelato. Quindi è importantissimo capire l'Antico Testamento, particolarmente il libro della Genesi. E possiamo vedere anche qua lo schermo, come potete vedere, sempre che tutto è una storia che continua, perché il libro della Genesi è anche la storia di due posterità, fratelli e sorelle. la storia del libro della Genesi ci titola il conflitto fra i due semi. Ricordiamoci quando, in Genesi 3, versetto 15, Dio dice al serpente, io metterò in limitizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la sua progenie. Egli ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. in realtà questa storia è la storia di due semi. e vediamo che il conflitto fra il serpente e la donna di Genesi 3, versetto 15, come potete vedere allo schermo, è la stessa storia che si trova in Apocalisse. fra, quando si parla in Apocalisse 12, quando si parla del serpente e della donna, non possiamo capire la storia del fra il dragone di Apocalisse 12 che si infuria contro la donna e contro la progenie che è Gesù Cristo senza aver capito Genesi capitolo 3 dove in realtà era stato narrato questo. si è successo in modo letterale nella storia però queste storie non solo Genesi 3, 15 tutte le storie della Genesi sono una profezia che dovevano avvenire nel Nuovo Testamento. Sono una profezia. Possiamo prendere, ad esempio, il conflitto fra la prosentità della donna e quella del serpente. Il conflitto fra il serpente e il seme della donna. Il conflitto, è lo stesso conflitto fra Caino e Abele. E vediamo che in Genesi 6 c'è un ecumenismo, c'è un'unione fra i figli di Dio e i figli degli uomini. Cosa significa essere figli di Dio? Un figli di Dio e chi è? In Giovanni 1, versetto 1, è scritto nel principio della parola, la parola racconta la parola a Dio. La parola è Gesù Cristo che si è fatto cane in Genesi, in Giovanni 1, versetto 14. Lui è la luce che doveva avvenire nel mondo. però è scritto che chi accetta la luce, la riceve la luce, lui riceve il potere di diventare figlio di Dio. Chi è figlio di Dio e chi riceve la luce? La luce chi è? È Gesù Cristo. I figli di Dio chi sono? Sono solo quelli che camminano non secondo la carne ma secondo lo spirito. E vediamo che in Genesi 6 c'è un'unione fra i figli di Dio e i figli degli uomini. C'è questo ecumenismo di quello che vi vedete oggi. Ecumenismo. E per poter capire questo dobbiamo capire cosa è successo in Genesi 6 da 1 a 4. C'è il conflitto fra Caino e Abele che è rappresentato anche dal conflitto fra Isacco e Ismaele che è nato secondo la carne e secondo lo spirito. Vediamo che il conflitto è sempre il conflitto fra Giacobbe e Esau. Quindi sempre la storia è il conflitto fra i due semi. Dio ha detto io metterò l'amicizia fra te e la donna fra la tua progenie e la sua progenie. Al serpente lo dice ci sarà sempre questa guerra fino alla fine dei tempi e che è la stessa guerra che continua fra Lot e gli abitanti di Sodoma e Gomorra è la stessa la stessa guerra fra Noè e i figli degli antidenuviani è la stessa storia è la stessa storia fra Giuseppe e i suoi fratelli lo stesso conflitto fra i due semi è lo stesso conflitto fra il buongrano e la gizzania quello che si trova nella parabola del buongrano e la gizzania è lo stesso conflitto che si trova in Apocalisse quando si dice i figli degli uomini si alzeranno per uccidere i figli che decreteranno ci saranno un decreto per uccidere i figli di Dio che non che loro che avranno il sigillo di Dio sulla fronte è lo stesso conflitto dei due semi dei due posterità che è iniziato già in Genesi 4 quando Caino uccide suo fratello quindi Genesi libro di Genesi è la storia dei due semi fratelli e sorelle quindi negare il libro della Genesi è passare oltre e mancare qualcosa di importantissimo e il libro della Genesi è il libro delle origini come possiamo vedere la Genesi parla della fisica in Genesi 1 versetto 3 in Genesi 1 versetto 3 è scritto e lo Spirito di Dio alleggiava sulle superfici delle acque e in Genesi 1 parla della teologia in Genesi 1 1 a 2 cosmologia di cronologia e tempo quando inizia il tempo la geografia la botanica l'astronomia la zoologia l'antropologia la sociologia la psicologia la geologia e vogliamo che il libro della Genesi parla anche della geologia della filosofia della filologia anzi la filologia dell'ethnologia in Genesi 10 con l'aiuto di Dio faremo oltre a tre capitoli prima che tre capitoli della Genesi faremo anche il capitolo 10 perché il capitolo 10 è importantissimo per l'origine delle nazioni come le nazioni si sono sviluppate per poter parlare della questione di poter parlare della questione delle razze per poter fare in modo che noi possiamo ricevere la luce una luce maggiore a proposito al riguardo la Genesi la Genesi parla di filosofia la Genesi parla anche già di geologia sappiamo che sapete che il libro della Genesi aveva già detto che la terra girava già nel libro di Giove prima che Galileo scoprisse che la terra girava perché prima si pensava che la terra non girava però la terra è rotonda loro pensavano prima che la terra era piatta si pensava la Genesi parlava già di tutto questo la Genesi è l'inizio di tutto delle paure della depressione delle guerre tutta la Genesi per poter avere un quadro completo della storia dove è iniziato tutto e possiamo vedere che nel primo capitolo la Genesi è scritto nel principio Dio creò i cieli e la terra la terra era in forma e vuota le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque notiamo una cosa fratelli e sorelle amici è che l'autore del libro della Genesi non cerca di provare l'esistenza di Dio lui assume l'esistenza di Dio e possiamo vedere anche in Deuterium 29 versetto 29 che è scritto le cose nascolte sono eterne il nostro Dio le cose rivelate dipendono da noi e dai nostri figli e in Giobbe 11 versetto 79 riesce a trovare un modo per sondare Dio riesce a sondare alla perfezione dell'Onnipotente alla perfezione è alto come il cielo cosa puoi fare è più profondo dell'inferno cosa puoi capire la sua estensione è più lunga della terra e più ampia del mare il nostro Dio chi lo può capire fratelli e sorelle amici noi siamo alla ricerca di Dio facciamo questi studi come abbiamo detto mettiamo le denominazioni da parte che io sia cattolico evangelico e tutto mettiamo tutto da parte e cerchiamo di ragionare chi può spiegare Dio Dio si rivela vedremo fratelli e sorelle si rivela nell'umiltà se noi stiamo alla ricerca di Dio e che andiamo a cercare Dio con pregiudizi e con ribellione non lo troveremo dobbiamo essere come dei bambini e lui si rivelerà a noi questo è il segreto per poter trovare Dio se Dio potesse rivelasse e rivelasse così a chi è solo intelligente si sarebbe rivelato a tutti i grandi di questo mondo i filosofi i filosofi i scientifici quindi noi per poter capire Dio per trovare Dio dobbiamo andare a cercare con umiltà nell'umiltà che potremmo trovare Dio e abbiamo anche qua l'esamo 90 versetto 2 prima che i monti fossero nati e che tu adesso avessi formato la terra e l'universo anzi dall'eternità in eternità tu sei da eternità a eternità tu sei Dio quindi Dio chi lo può capire? chi può capire Dio? ma ci sono quelli che di solito si fanno la domanda ma chi è Dio? chi può dimostrare che Dio esiste? ci sono quelli che si fanno questa domanda oppure chi ha dato nascita a Dio? ci sono queste domande che la gente si può anche fare e vedremo che ci sono anche quelli le atei che dicono Dio non esiste ma vedremo che se rifletchiamo perché noi siamo qua per riflettere dire che Dio non esiste significa che noi dobbiamo essere Dio per dire che Dio non esiste perché vedremo le caratteristiche di Dio quali sono le caratteristiche di Dio? le caratteristiche di Dio sono ogni potenza ogni scienza e ogni presenza chi afferma afferma che Dio non esiste deve essere Dio lui stesso deve avere le caratteristiche divine quindi ci sono quelli che si fanno la domanda chi ha creato Dio? quindi notiamo che è assurdo per qualcuno che non crede in Dio dire che Dio non esiste perché per dire che Dio non esiste devo essere ogni potente ogni scente ogni presente quindi deve essere io devo essere ogni presente in ogni posto nel mondo per poter dimostrare che Dio non esiste quindi vedremo che in realtà i veri atei non dicono che Dio non esiste invece dicono i veri atei a volte dicono non sono agnostico perché ha Teo che ha negazione e Teos che Dio la negazione di Dio per negare Dio devo essere Dio stesso io stesso devo essere ogni presente ogni scente e ogni potente però sappiamo che non lo siamo quindi dire questo è un'affermazione gratis non ha senso ancora meglio dire sono agnostico quindi nego non è che nego l'esistenza di Dio però dico che non ho abbastanza prove per poter dimostrare che Dio esiste allora lì si può ancora capire e ci sono anche quelli che si chiedono si possono anche chiedere fare la domanda cosa dimostra che Dio esiste perché noteremo che per dire che Dio non esiste abbiamo per poter dimostrare che Dio esiste ci sono diversi diversi metodi e noteremo che Dio ha creato le cose perfette possiamo notare i veri atei sono intelligenti oppure diciamo invece che se qualcuno è realmente intelligente non si affermerà ateo come abbiamo detto perché a vedere la perfezione con cui le cose sono fatte avete notato fratelli e sorelle che le stelle il cielo oppure il sole è a una distanza fra noi e il sole c'è una distanza perfetta che se il sole fosse più vicino a noi di qualche centimetro saremmo bruciati e che se il sole fosse più lontano da noi saremmo nell'umidità quindi tutto è stato calcolato come mai possiamo spiegare i pianeti come si sostengono nell'aria sono nell'aria chi sostiene questi pianeti se non è Dio poi determineremo più in là cercheremo di definire chi è Dio perché ognuno può dire Dio Dio sì perché quando si dice Dio ognuno pensa un'intelligenza superiore poi con l'aiuto di Dio cercheremo di entrare più in profondità più in là anche nelle altre puntate e noteremo che ci sono tante cose che dimostrano l'esistenza di Dio c'è anche vediamo la cellula quanto tempo per quanto tempo abbiamo studiato la cellula facciamo anche dei dottorati per la cellula solo la cellula che non si vede all'occhio nudo e noi abbiamo ancora capito in realtà tutto a 100% come funziona la cellula l'unità più piccola che esiste il DNA quanto è perfetto strutturato quando vediamo tutte queste cose fratelli e sorelle quando vediamo una macchina Fiat ben bella sappiamo quando vediamo la macchina come abbiamo parlato l'ultima nella prima seconda puntata quando abbiamo parlato dell'occhio quando vediamo una macchina fotografica oppure un cellulare come questo che può avere 14 pixel diciamo wow chi è stato il costruttore di questo telefono e sappiamo che c'è un costruttore dietro che ha pensato per poter realizzare il cellulare nello stesso modo in cui quando vediamo l'essere umano quanto siamo complessi quando vediamo l'occhio umano solo l'occhio ha più di 512 pixel non come i cellulari oppure come una macchina fotografica quanti pixel e quando vediamo questo non ci possiamo fare non ci facciamo la domanda chi ha costruito o chi è stato il creatore di questo essere dell'essere che siamo noi c'è un creatore dietro c'è un disegnatore qualcuno che ha pensato che ha proiettato e che ha realizzato e questa persona è Dio che definiremo mano a mano che continueremo il nostro studio quindi Dio e dobbiamo notare una cosa un'altra cosa per l'esistenza di Dio un altro argomento è che Dio dobbiamo notare che ogni cosa produce un effetto ogni cosa produce un effetto significa cosa quando io picchio in una palla devo segnare quando picchio il segno il gol è il risultante del fatto che ho picchiato nella palla durante il calcio quindi se butto questo mi attendo che mi aspetto che si romperà perché si romperà perché c'è stata una causa prima che ha causato la rottura di questo cellulare adesso applichiamo questo a Dio se dico che Dio non esiste non ha senso perché quando vediamo l'universo come abbiamo parlato dobbiamo sapere che perché l'universo esiste c'è stata una causa che ha causato l'esistenza dell'universo non c'è stato immaginiamo forse per dare il beneficio del dubbio a chi pensa che c'è stato il Big Bang anche prima che il Big Bang ci fosse ci vuole una forza chiamatela come volete per poter una causa per poter causare l'univers l'esistenza l'esistenza del Big Bang chi ha causato il Big Bang se fosse proprio il Big Bang se noi l'universo fosse proprio stato creato dal Big Bang facciamoci le buone domande quindi chi è stato prima chi ha creato l'universo ci vuole una causa perché ogni causa produce un effetto e noi l'universo è l'effetto è che la causa deve essere fuori dal tempio e dallo spazio la causa che ha prodotto l'universo deve essere fuori dal tempo e dallo spazio e dalla materia è per quello che in Genesi 1 versetto 1 è scritto nel principio Dio creò i cieli e la terra ci spieghiamo meglio con questo schema nel principio la creazione vediamo nel principio è il tempo Dio creò i cieli spazio e la terra la materia e dobbiamo notare fratelli e solelli e amici che il tempo lo spazio e la materia devono esistere nello stesso momento il tempo lo spazio e la materia devono esistere nello stesso momento quindi chi causa il tempo lo spazio e la materia deve essere fuori dal tempo dallo spazio e dalla materia quindi il nostro Dio il mio Dio è fuori dal tempo dallo spazio e dalla materia e il tempio, il spazio e la materia non possono avere un effetto non possono influire il mio creatore perché se il tempio, il spazio e la materia influiscono il mio Dio, il mio creatore il mio Dio non è più Dio quindi la domanda secondo la quale chi ha creato Dio non avrà senso perché chi ha creato Dio deve essere la causa di Dio però Dio è Dio Dio è Dio di eternità in eternità quindi Dio è l'alfa e l'omega e nessuno può creare Dio questa è la domanda quindi fare la domanda a chi ha creato Dio non ha più senso perché se qualcuno ha creato Dio non è più Dio quindi il mio Dio, il mio creatore è fuori da questi tre elementi quindi questo è per l'esistenza l'esistenza di Dio e abbiamo visto che come abbiamo visto nelle altre puntate che c'è qualcuno che dice che i Big Bang siamo stati creati che l'evoluzione e la creazione vanno insieme no, abbiamo visto nelle altre puntate che no, non è vero e qua facciamo un piccolo un piccolo ricordo ricordiamoci che avevamo detto che se la creazione è vera significa che c'è un solo Dio un solo creatore se l'evoluzione è vera non c'è creatore se la creazione è vera c'è un codice morale se l'evoluzione è vera non c'è legge morale se la creazione è vera la vita ha uno scopo se l'evoluzione è vera la vita non ha uno scopo quindi vediamo e poi possiamo anche vedere qua se la creazione è vera se l'evoluzione è vera l'uomo evolve non c'è bisogno di un salvatore non ha bisogno di un salvatore se la creazione è vera l'uomo è una creatura con una natura del peccato ha bisogno di un salvatore se la creazione è vera l'uomo porta la morte nel mondo se l'evoluzione è vera la morte porta l'uomo nel mondo se la creazione è vera c'è una vita dopo la morte se l'evoluzione è vera non c'è vita dopo la morte se la creazione è vera c'è speranza per la vita futura se l'evoluzione è vera non c'è speranza per il futuro per il futuro notiamo che creazione e evoluzione non vanno insieme non possono non possono vivere insieme sono due cose diverse abbiamo visto che se l'evoluzione è vera c'è determinismo non c'è libero arbitrio abbiamo visto che se la creazione è vera c'è libero arbitrio e quelli che predicano che noi continueremo a trasgredire la legge di Dio fino a quando Gesù tornerà in realtà stanno promuovendo l'evoluzione il determinismo la fatalità quindi Dio l'uomo non ha più scelta quindi facciamo le sorelle e abbiamo visto l'argomento importantissimo è l'argomento morale la gente rigetta Dio sulla base della moralità se Dio avesse detto fate quello che volete tutti sarebbero cristiani tutti però visto che Dio dice camminate secondo le mie vie l'uomo non vuole perché pensa che la legge di Dio è una restrizione però vedremo più avanti quanto è bella questa legge che mi protegge che ci protegge che sono come le mura che Dio stabilisce davanti a me per permettere che il nemico non mi possa toccare e abbiamo visto che la creazione stiamo parlando della moralità se diciamo che Dio non esiste significa che non c'è una legge morale perché poter dirmi che c'è una legge morale che c'è una legge morale che mi dice che una cosa sia buona o cattiva ci vuole un legislatore che è fuori da me che è fuori dal tempo e dal spazio e dalla materia è solo il mio Dio il mio creatore che è fuori dal tempo dalla materia e dallo spazio mi può dire e mi dà una legge morale per poter dire se una cosa è buona o non buona quindi chi dice che non c'è Dio significa che non c'è una legge morale se si dice che non c'è una legge morale significa che non c'è il bene non c'è il male allora la nostra domanda non ha più senso quindi fratelli e sorelle andiamo avanti e vediamo che Dio non ha iniziato ad amare dopo la creazione Dio è già amore prima della creazione è importantissimo quando Dio crea quando Dio crea l'uomo e crea tutto è già amore questo ci porta nella pre-creazione per poter capire come Dio era prima di creare tutto quindi prima di creare tutto Dio deve essere una cosa che non cambia è amore in 1 Giovanni 4 versetto come possiamo vedere qua allo schermo vedrete insieme leggiamo insieme in 1 Giovanni 4 versetto 8 è scritto Dio è amore quindi Dio per poter essere amore deve essere fuori da deve per poter essere amore non deve cambiare noi siamo amorevoli ogni tanto cambiamo il nostro atteggiamento cambiamo il nostro modo di fare però Dio lui non cambia è per quello che Dio dice nella sua parola io sono il Signore tuo Dio non cambio quindi Dio è già amore Dio per poter creare lui crea perché lui vuole dare la vita per amore non è che Dio crea per avere l'amore non non crea perché le sue creature lo devono amare lui crea perché è già amore è un Dio d'amore che crea non sono le creature a rendere Dio amore ma è un Dio un Dio d'amore che crea ripeto non sono le creature a rendere Dio amore ma è un Dio d'amore che crea e noteremo che e quando si dice come abbiamo visto qua che nel principio Dio creò i Cieli e la Terra noteremo che la parola Dio è Elohim Elohim è il plurale di Dio però notiamo che creò è al singolare come mai? Dio è al plurale Elohim in ebraico e creò è al singolare c'è una lezione che dobbiamo imparare qua c'è una lezione importantissima che dobbiamo imparare qua in questo passaggio come potete vedere vi faccio vedere con questo passaggio in questo passaggio troviamo che Elohim è in realtà noi non dobbiamo concepire Dio come un io oppure me ma piuttosto come un'unità relazionale che coinvolge più persone di un singolo essere ricordiamoci l'amore non può essere vissuto da solo quindi essendo consapevoli di ciò comprendiamo meglio la più bella definizione di creazione della Bibbia Dio è amore è importantissimo Dio è amore quindi il nostro Dio è amore non è la creazione che renda Dio amore ma un Dio d'amore che crea e noteremo che questa definizione di Dio è amore possiamo vedere che in Esodo 20 1 a 3 è scritto allora Dio pronunciò queste parole io sono il Dio Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù non avere altri dei fuori di di me poi nella prossima puntata cercheremo di capire meglio che Dio è amore è chiamato Dio la parola in ebraico è Elohim che significa pluralità di Dio però si dice nel principio Dio creò i cieli e la terra creò è a singolare in Esodo 20 da 1 a 3 scritto il Signore io sono il Signore tuo Dio lui non dice io sono i vostri dei anche se Dio è la pluralità vedremo che si parla di unicità nella pluralità unicità nella pluralità io Dio non è singolare però Dio è plurale nell'unità un'unità perfetta e lui dice nel versetto 3 come abbiamo detto non avere altri dei al di fuori di me non al di fuori di noi e vedremo anche altri passaggi in cui lui parla di di noi di una perfezione l'unità nella perfezione la perfezione nell'unità e con questo fratelli e sorelle potete dimostrare un po' cosa è Dio cosa significa Dio la pluralità di Dio ne parleremo anche bene nella prossima puntata e questa introduzione per poter capire che Dio prima di tutto è amore prima di creare il mondo era già amore perché lui non cambia e questo Dio è amore che permetterà che dirà facciamo l'uomo a nostra somiglianza che Dio ci benedica e ci dà il suo spirito che possiamo con il suo spirito cercarlo come si trova nella parola non come le persone o poi il mondo ci ha fatto vedere Dio oppure uccidere nel nome di Dio oppure fare cose sbagliate nel suo nome questo non è il Dio della Bibbia che Dio ci benedica e ci dà il suo spirito in modo che possiamo ogni giorno scoprire i tesori che sono nascosti in lui nel merito di Gesù Cristo il nostro unico salvatore Amen grazie a tutti 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 grazie a tutti